La Danimarca inaugura una nuova era. Dopo 52 anni di regno, la regina Margaret, 83 anni, la più anziana sovrana in vita al mondo, abdica in favore del figlio, il principe ereditario, Frederick, 55 anni. Nessuno sfarzo, soltanto una cerimonia semplice e nessuna incoronazione formale. Re Frederick X, questo il suo titolo, è stato proclamato dal balcone del Parlamento dopo l'annuncio del primo ministro Mette Frederiksen. A differenza dei rituali sfarzosi come per l'incoronazione di Re Carlo III nel Regno Unito, i reali danesi hanno scelto un profilo meno sontuoso, a parte un giro in carrozza, un saluto di cannone e l'alza bandiera nei palazzi reali di Copenhagen. Una ritualità con un profilo indubbiamente semplice. E non faranno mostra di sé neanche i gioielli della corona danese, che furono indossati per l'ultima volta durante la cerimonia di unzione di Cristiano VIII nel 1840. A fianco del futuro re e capo di stato di Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe, c'è la principessa Mary, che può indossare i gioielli della corona. Nata in Australia da una famiglia borghese senza origini nobili, la futura regina ha una storia alle spalle che ricorda da vicino quella di Kate, la moglie di William, l'erede al trono britannico. Era una ragazza in magliette e pantaloncini, andavo in giro a piedi nudi, ho frequentato la scuola pubblica, non ricordo di aver desiderato di diventare principessa neanche un giorno, volevo fare la veterinaria, ha raccontato Mary al Firenze al Times. Ma l'aver incontrato Frederick in un chiassoso pub di Sydney, dove il principe era in visita per le elezioni del 2000 e averci chiacchierato a lungo prima di essere informata dello status di quel giovane ha cambiato la sua vita.